abitiamo al piano matto molto spesso ci incontriamo sito bella bella sai mezza scala di industria qualche volta ci tozziamo ma io mi faccio fatto mio c'è sta ragione c'è sto motivo che mi impedisce di parlare a signorina camilla quando avevi che passa siete più bella e una stella io vi volessi parlare ma voi siete fidanzati a un tipo forzotto che pare sanzone si va facendo ammasciato e nessuno maleva una mazzia donna a signorina camilla quando avevi che passa ma già piglia camomilla signoripum calma l'altro giorno per la strada a passeggio con zanzone eravate una rusella io vi ho fatto una guardata mamma bella che emozione m'è venuta tre marella che le ha paura parola mia che mi impedisce di parlare a signorina camilla quando avevi che passa siete più bella e una stella io vi volessi parlare ma perché non ho lasciato sto tipo forzotto che pare sanzone ma perché non c'è tagliate i capelli o facite in un bello mollona a signorina camilla come volaggia a spiega vorrei avvasare sta bucchella ma ho coraggio che mi dà ma la forza che mi dà signorina sammestà ha Grazie a tutti